Vi presento questo T6 180 Dynamic con trasmissione appunto dinamica cambio di doppia frizione. Questa macchina è un tutto fare in un'azienda agricola, una macchina ideale da laratura alla finagione e all'allevamento. Motore 6.7 di cilindrata FPT, pompa idraulica 150 litri al minuto e gommatura Trellenborg VF 600 6028 bassa pressione. Posteriormente troviamo le 7.10 6038. Ganci tra i no C più G3, quattro distributori elettroidraulici e terzo punto idraulico. Nella cabina di qua su T6 notiamo un monitor Interview 4 utile per la guida satellitare e gestione macchina. Il nuovo joystick con avanzamento e arretramento della macchina per gestire i due distributori elettroidraulici. Grazie a tutti.